Lungo Ponte del primo novembre, ha già fatto qualche programma con i suoi amici? Eh sì, andiamo con i miei amici in discoteca. E qualche ristorante invece? No, ristorante, i miei amici nessuno, cioè tutti vanno in discoteca. Pensavo oggi con questa bella giornata di spostarmi anche nella riviera romagnola, diciamo. Domani penso starò a casa con i miei amici. Un giretto per il corso, magari oppure visto il bel tempo al mare con gli amici? Sì, sì, forse sì. Con gli amici, un giretto al mare per prendere giusto un po' di sole. Andrete da qualche parte? Ma adesso stiamo semplicemente facendo un giro, abbiamo fatto colazione e questo. Invece domani come lo passerete? Domani penso che studierò perché tanto siamo all'università, quindi questi giorni si sta con la famiglia, però comunque si approfitta per studiare un pochino. C'è discoteca, qualche gita fuori porta? Sì, stasera, andiamo a ballare, stasera sì. Domani farete qualche cosa in particolare? È il compleanno di una nostra amica, quindi staremo penso con lei, non si sa cosa faremo ancora. Al mare? Quasi quasi un bel picnic al mare. Fuori Fano, quello sicuro. Dove? Pesaro probabilmente. Oggi pomeriggio? Sì, oggi, no, stasera, stasera, nei locali, sì sì sì. Penso di bazzicare intorno alla zona perché voglio andare fuori e non ne ho. E tutto, preferiamo rimanere così in città con la compagnia. Mare? No, mare no, penso di spostarci, ci sposteremo più sull'interno probabilmente. Starò un po' tranquilla a casa, visto che a scuola adesso ho un po' di cose da fare, studierò e poi stasera credo che andrò a ballare. Dove, qua in zona oppure fuori? No, no, qua in zona, resto a casa. Mare invece? Una passeggiata con gli amici? Sì, la mattina farò colazione fuori, penso, come al solito, e poi una passeggiata al mare.